acqua ma ne è in piscina e il resto dei supereroi fa festa dov'è la giustizia beh anche un buttafuori di un nightclub è una specie di supereroi se ci pensi controllare la folla non è facile bene entra ma ricorda ti tengo d'occhio a volte è gentile e premuroso hai portato una cavia al club non sarà troppo rumoroso ma come vuoi Alex è responsabile solo della sicurezza umana a volte può essere malvagio e irremovibile Harley Quinn non sono ammessi supereroi non puoi passare peccato puoi passare una signora con la valigia sei appena scesa dall'aereo per fare festa ballo rispetto le regole non dicono nulla sulle valigie benvenuta nel club la festa balla grande è il momento di aprire la valigia e far uscire la vera regina della danza Harley esci ce l'abbiamo fatta sì balliamo fino a crollare scommetto che quel buttafuori è geloso di questo divertimento solo le persone più attente possono essere buttafuori togli gli occhiali per favore va bene vai avanti tu li mi smistica un attimo sembra che non scherzi non la lascia entrare non importa come lo chieda la festa è rovinata ma no bisogna solo avere l'aspetto giusto più precisamente assumere la forma giusta billy eilish ottima idea anche il più stoico dei buttafuori non può resistere a una superstar benvenuta nel club se le serve qualcosa me lo dica subito wow nessuno ci crederà oh cavolo che confusione da billy eilish nel club calma calma sono solo io il mondo non si abituerà mai alle tante facce di mistica oltre ad avere a che fare con i veri super criminali buttafuori devono stare al passo con le tendenze per capire che questa corona è un look super attuale non un tentativo di intrufolarsi beh pensavo che i supereroi fossero superati ragazzo vattene sei troppo giovane e troppo oscuro accidenti forse batman corromperà la sicurezza no bel tentativo ma vattene puoi lasciare la pistola a soldi però fantastica posso spaventare qualcuno sparando dei soldi nessuno si muova questa è una rapina al contrario vi seppellirò nei soldi un nightclub non è che divertimento e chi conosce il divertimento meglio di chiunque deadpool no eccolo tra l'altro non provarci nemmeno non sono ammessi supereroi i rifiuti feriscono sempre quindi salvo sempre il mondo e non posso nemmeno fare festa ehi cos'è quello laggiù già hai provato deadpool ma non si arrende a dopo butta fuori che succede se uso la forza povero deadpool così ingenuo alex lo metti al tappeto in due secondi come farà deadpool a entrare cosa sei immortale per caso te l'ho detto non sono ammessi supereroi sembra che debba usare l'arma segreta l'ipnosi è un grande trucco tieni il cordone non lasciarlo portiere la gente dice che i butta fuori fanno sempre entrare le persone carine ma questa volta non vale per le super bellezze ah ah torna indietro meno male che edera velenosa sa come difendersi tu aiutami subito dove ha portato quel tipo il mistero si svela ed era invaso che travestimento porti una pianta perché ti serve a una festa non sembra un botanico ma credo che non sia proibito portare fiori al club entra wow è fantastico qui deadpool sta già distruggendo la pista da ballo facciamogli compagnia ma prima innaffia la signora rimanere idratati mantiene edera velenosa sana e felice che sistema di irrigazione interessante facciamo festa questa è la nostra serata in un locale la cosa più importante è l'atmosfera ecco perché probabilmente non dovreste far entrare tempesta davvero non vuoi farmi entrare sei coraggioso amico e stupido goditi l'ira della natura idiota è davvero impossibile affrontare tempesta se la cava senza problemi sono caldi non va bene per fortuna non manipola solo il tempo fuori può assicurare la temperatura giusta al suo cocktail ora posso rilassarmi chi ne vuole uno freddo infila uno alla volta i supereroi non si arrendono facilmente da quanto tempo e vorrei che rimanesse così molte persone sono invidiosi dei gadget di batman ma un butta fuori esperto non si lascia condizionare una bomba fumogena sì ho visto di peggio all'asilo delle guardie eccolo che arriva appare attraverso il fumo di chi sono queste orecchie appuntite batman vola via prima di infastidirmi qualcuno può aprire una finestra niente di umano è sconosciuto agli dei ecco perché tora è determinato a divertirsi no non nel mio club che butta fuori maleducato ci scommetti guardia se riesce a impugnare il martello me ne vado se non sei degno farò festa fino all'alba rifiutare una scommessa con un dio non è possibile e alex è di parola una scommessa è una scommessa urrà il mio primo barile di birra sarà in tuo onore butta fuori wow che incontro tor in persona il potente dio del tuono movimentiamo la festa e mentre tor si diverte alex si allena e prova la forza dei suoi muscoli incredibile tutto ciò che serve per sollevare il martello è pazienza e determinazione e questo cambia tutto nascondetemi amici mi ha scoperto ehi tora hai perso qualcosa vieni fuori ma una scommessa è una scommessa è difficile dire di no a dei bellissimi supereroi ma alex si attiene alle regole non provarci nemmeno cat smamma che brutto ma catwoman non si preoccupa ora posso entrare per favore aspetta non sei il gatto con gli stivali cosa credi di fare non puoi resistere a quello sguardo non importa quanto tu sia una guardia scrupolosa un cocktail abbiamo un menù speciale solo per te latte caldo per la gattina cos'è un puntatore laser devo prenderlo sembra che il latte abbia risvegliato l'istinto e ha rotto l'incantesimo presa come ha ingannato la guardia non soffiare il piano può essere fallito ma il latte se ne è valsa la pena alla fine tutti quelli che volevano fare festa sono entrati e così alex ha un po di tempo per rilassarsi chissà com'è fare festa tutta la notte wow questa è una vera festa da supereroi ok basta così per quanto tempo ti puoi nascondere a secondare i mortali oh no ragazzi basta regole faccio festa anch'io questo è molto più divertente che fare il buttafuori questa festa spacca ti è piaciuta la nostra interpretazione dei supereroi in disco quale personaggio vuoi vedere nel prossimo chi è il tuo supereroe preferito scrivilo nei commenti metti un like al video e iscriviti al canale se sei nuovo clicca sulla campanella per non perdere le buffonate da supereroi di e tum tum wow Grazie a tutti